Hola, è Claudio Simeoni con la seconda parte della trasmissione Magia, Stragonaria e Paganesimo. Riprendendo un po' dalla trasmissione di oggi pomeriggio, vi ricordo che a parte tutto ciò che vi ha ricordato Francesco dei vari appuntamenti che è in giro per il Veneto, il mio compito è invece quello di ricordarvi essenzialmente il rito del equinozio di primavera che verrà tenuto presso il Bosco Sacro di Iesolo. Prego tutte le persone che saranno presenti al rito di essere sul posto per le ore 17, non più tardi delle ore 17 perché poi chiaramente il rito inizierà. So benissimo che inevitabilmente ci sarà qualche ritardatario, qualcuno che arriverà più tardi però alle ore 17 diciamo così l'accesso per quel che mi riguarda è chiuso. Chiaramente dopo se le persone sono quelle che ci conoscono che sono già venute gli anni scorsi e qualcuno arriva più tardi non ha nessuna importanza. Certo che io non aspetto specialmente persone nuove che vengono per la prima volta e che non sanno come muoversi e dove venire. Per cui l'appuntamento è per il rito delle equinozio di primavera, sabato 25 marzo alle ore 17, essere tutti là sul posto. In realtà io arrivo molto prima, arrivo subito dopo pranzo, praticamente continuo a preparare quello che non ho preparato precedentemente e naturalmente un po' alla volta le persone arriveranno a farne i capanelli, insomma quello che c'è. Bene, il discorso che stiamo portando avanti da alcune settimane e che ormai sta per andare verso la fine probabilmente penso che giovedì prossimo che sarò da solo in trasmissione lo porterò alla conclusione. E' quel processo di trasformazione dell'uomo, quel processo di divenire, quel processo di mutamento della struttura psichico emotiva e fisica dell'individuo che la stragoneria ha individuato come strategia di esistenza, strategia della trasformazione del soggetto all'interno della vita e che solo ora, solo da qualche tempo, la scienza sta capendo alcuni meccanismi perché avviene questa trasformazione e perché la stragoneria ha ragione rispetto a qualsiasi altra religione monoteista. Abbiamo cominciato un processo parlando dell'uomo come parte della natura, gli animali e le loro relazioni con l'uomo abbiamo continuato sulle questioni psichiche della vita fetale, il primo mondo della vita, della vita poi muore il feto e nasce il bambino, muore il feto, nasce il bambino e c'è la magia dell'espressione della crescita del bambino abbiamo parlato di stati psichici e sociali della crescita del bambino che la stragoneria ha sempre sottolineato come importanti, come fondamentali e che la scienza sta scoprendo adesso e la scienza sta scoprendo adesso alcune questioni sulla capacità di percezione e di relazione magica dell'uomo col mondo il suo cervello e la sua percezione e continueremo questa sera iniziando muore il ragazzo, nasce l'individuo adulto siamo nel terzo mondo della vita alcune questioni da considerare della propria esistenza tre mondi, quattro mondi in realtà sono i mondi che considerano la stragoneria come tappe di trasformazione di un soggetto in un mondo si vive e si muore si nasce nell'altro mondo, si rinasce e si risorge nell'altro mondo si vive e si muore si nasce e si risorge nell'altro mondo, si vive e si muore proprio perché si è vissuti, proprio perché si è vissuti intensamente usando tutto noi stessi affrontando tutte le contraddizioni che la vita ci ha presentato si può rinascere nel mondo successivo ogni volta che c'è la resa del soggetto non c'è più la rinascita quando siamo nei mondi fisici la vita può continuare cioè non è che il fanciullo che non diventa un adulto non avrà un corpo da adulto e non avrà tensioni, bisogni o non sarà un buon lavoratore o non sarà un buon consumatore ma non sarà mai un adulto cioè non è morto il ragazzo non è nato un individuo adulto ma il ragazzo ha continuato ad esistere perché non è morto continua ad esistere come ragazzo in un corpo da adulto in tensioni, in bisogni da adulto è incapace di assumersi la responsabilità della propria vita nelle proprie mani e sono gli aborti gli aborti dei ragazzi e come ci sono gli aborti dei feti i feti che non muoiono e non nasce il bambino ma muore proprio tutto il corpo e ci sono uomini adulti che muoiono corpi di uomini adulti che non muoiono e non nasce l'essere luminoso bene, questi quattro mondi la vita fetale, il mondo del ragazzo il mondo dell'individuo adulto il mondo del corpo luminoso sono i quattro mondi che la stragoneria considera come importanti nelle sue trasformazioni muore il ragazzo dunque e nasce l'individuo adulto siamo nel terzo mondo della vita alcune questioni da considerare nella propria esistenza la stragoneria dice che l'individuo adulto è il passaggio, passa da una condizione di quando era ragazzo cioè quando subiva i fenomeni del mondo e a cui i fenomeni si adattava passivamente alla condizione dell'individuo adulto dove subisce sì i fenomeni provenienti dal mondo ma rispetto a quei fenomeni mette in atto delle strategie di esistenza cioè praticamente non è semplicemente l'individuo passivo che si adatta dei fenomeni che ricepisce del mondo ma rispetto a quei fenomeni mette in atto una sua capacità critica pertanto delle strategie di adattamento psichico emotivo della sua struttura cioè l'individuo adulto è l'individuo che a differenza del ragazzo sceglie e determina chiaramente in parte chiaramente per quello che può fare il suo destino le sue scelte il suo mutamento proprio perché determina il suo destino le sue scelte il suo mutamento l'individuo adulto si appresta a trasformarsi in un dio cioè quella capacità di esercitare la propria capacità critica di mettere in atto le proprie strategie di adattamento di inserire di mettere nel mondo i propri fenomeni che partono da se stessi cioè diventare un attore della propria esistenza non è altro che l'attività di colui che determina il proprio destino lo determina nell'ambito possibile chiaramente non in termini assoluti e tenta di trasformarsi in un dio ed è il soggetto che alla morte del corpo fisico farà nascere il corpo luminoso questo è la sintesi diciamo così di quello che è il pensiero della stragoneria la visione della stragoneria naturalmente a questo punto la stragoneria mette in atto una serie di strategie di adattamento soggettivo strategie di capacità di critica del soggetto davanti al mondo strategie della capacità d'azione dell'individuo nel mondo in cui vive e a questo punto si tratta di analizzare quello che è la capacità della scienza di confermare di convalidare quello che è le strategie di esistenza della stragoneria rispetto al mondo strategie di esistenza della stragoneria rispetto al mondo che sono in opposizione all'adattamento passivo e alla richiesta della provvidenza che invece i cristiani impongono a bambini indifesi stuprandoli costringendo il ginocchio il bambino cristiano costretto a pregare non diventa mai un adulto resta un eterno bambino ed è già morto nella costruzione del proprio corpo luminoso è morto proprio perché il cristianesimo impone all'individuo la rinuncia della capacità di affrontare la vita il cristianesimo non organizza il bambino cioè non fornisce al bambino gli strumenti per affrontare in maniera coerente la propria esistenza in maniera gloriosa in maniera eroica la propria esistenza il cristianesimo disarma la persona davanti alla vita la rende paurosa la rende ansiosa e in quei termini la persona avrà sempre paura ad affrontare la vita la struttura fondamentale attraverso cui avviene la trasformazione dell'uomo è la capacità dell'individuo di mettere sul campo della quotidianità sul campo dell'esistenza la propria struttura emotiva la propria struttura emotiva la struttura emotiva dell'uomo è quella struttura che è la capacità di provocare nell'uomo cambiamenti profondi e siccome l'altra volta ha avuto una una sottolineatura per quanto riguarda il concetto di emozioni la persona lo interpretava come azione dell'emosa azione del sangue siccome questo non è l'uso che se ne fa del termine emozione anche se non so se nella storia della derivazione delle parole abbia una certa attinenza sicuramente lo ha però l'uso della parola emozioni nella storia nella storia della psicologia nella storia della psicanalisi nella storia della medicina nella storia della filosofia stessa significa delle cose precise cioè ha una significazione ben precisa e ci sono almeno una quindicina di scuole diverse che a quel termine danno le loro interpretazioni per cui adesso vedremo a limite vi leggerò qualcosa dal dizionario di psicologia tanto perché riusciamo a capire di cosa stiamo parlando la prima cosa che mi interessa mettere in rilievo quando muore il ragazzo e nasce l'individuo adulto e siamo nel terzo mondo della vita è una condizione che fino a poco tempo fa era praticamente impensabile ed è quella il cervello dell'uomo è ancora in evoluzione cioè questo è un articoletto della Repubblica del 9 settembre 2005 che ho già fatto chiaramente qui in radio ed è la scoperta di alcuni ricercatori che viene pubblicata su Science la ricerca di due studiari statunitensi due geni ci dividono dalle scimpanzee almeno per quanto riguarda le dimensioni del cervello che nella nostra specie è iniziato a crescere quando sono entrati in funzione i due frammenti di DNA battezzati micro cefalino e ASPM i due geni sono comparsi nella nostra specie risparattivamente 37.000 e 5.800 anni fa fate conto che dire 37.000 anni e dire pochissimo dire 5.800 anni fa è un'inezia davanti alla storia dell'evoluzione di un individuo è un'inezia fate conto che 5.800 anni fa c'era già la civiltà sumerica cominciava già la civiltà sumerica o comunque era gli albori c'era già una civiltà egiziana e c'erano già sparse per il mondo tutta una serie di civiltà compresa quelle europee cioè siamo già in epoca se non storica pre-storica perché già del 3000 avanti Cristo che sarebbe circa 5.000 anni fa cominciamo già a avere reperti noi differenti cioè un'organizzazione sociale e culturale degli uomini abbastanza consistente per cui parlare di 5.800 anni fa vuol dire la nascita di quella che consideriamo la civiltà di oggi cioè molto recentemente se si considerano i ritmi dell'evoluzione delle specie il secondo dei geni coinvolto come faranno notare i ricercatori dell'Università di Chicago che pubblicano oggi la ricerca su scienze è apparso nella nostra specie contemporaneamente la formazione delle prime città e la nascita della scrittura una coincidenza probabilmente non casuale cosa sarebbe successo sarebbe successo che l'attività degli uomini si è trasferita all'interno del proprio DNA cioè si è trasferita nella catena del DNA e quella attività ha dato il via a una necessità evolutiva che si è trasferita nella struttura biologica delle persone la scoperta non si ferma qui i ricercatori sono andati a vedere come si stanno comportando microencefalino e aspiem oggi e hanno notato che la spinta verso l'evoluzione un ulteriore perfezionamento dei due geni è ancora in corso prelevando il DNA di un gruppo di individui di 59 paesi diversi hanno notato che i geni si presentano in versioni leggermente diverse ma una in particolare sta prendendo il sopravvento sulle altre quella vincente dal punto di vista dell'evoluzione la variante avanzata di microencefalino e aspiem è ormai diffusa in Europa Nord Africa Medio Oriente Asia del Sud mentre meno frequenti in Estremo Oriente eccetera eccetera e qui ci fermiamo quello che a noi interessa sapere è questo che l'evoluzione l'uomo tanto non è creato di immagine somiglianze negli opazio cretino deficiente ma continua sulla strada della trasformazione e sulla strada dell'evoluzione per cui ogni soggetto ogni individuo ha delle responsabilità rispetto alla specie ha delle responsabilità fondamentali nell'affrontare la sua esistenza con tanta più passione e tanta più energia si affronta l'esistenza quotidiana e tanto più si modifica la propria struttura e si può lasciare in eredità la propria struttura del DNA per cui rifletteteci un attimino su questo e capirete l'importanza che ha dal punto di vista sociale dell'applicazione dei principi della stragonaria proprio in antitesi a quello che è l'orrore a quella che è la distruzione dell'uomo operato dalle religioni monoteiste andiamo un attimino più avanti e qui cominciamo col discorso delle emozioni innanzitutto abbiamo visto che l'evoluzione è ancora in corso e gli individui adulti hanno delle responsabilità rispetto ai processi evolutivi della nostra specie questo è un articolo del 2003 tratto da il Gazzettino quando il Gazzettino faceva ancora degli articoli meno scemi di oggi medicina fotografata l'area dove nasce il sentimento il professor Dinelli ma la nostra mente è molto di più dice quando ci emozioniamo il cervello diventa rosso del cervello ormai si sa di tutto e di più non è vero perché dopo si è scoperto un sacco di altre cose non passa giorno che in qualche parte dell'emisfero non ci sia uno scienziato che crede di aver alzato il velo sull'ultimo mistero della mente umana lì nasce la capacità di voler bene l'aquila del saper ridere in cui l'angolino matura l'ira dall'altro la passione l'ultimo annuncio è di ieri a dirlo un gruppo di scienziati da Gentis University in Belgio che hanno fotografato grazie a una speciale tecnologia il cervello di alcune persone impegnate a tradurre le emozioni racchiuse in diversi messaggi secondo gli scienziati si è così scoperto che quando le persone sono impegnate ad interpretare il significato di quello che veniva detto aumentava sensibilmente il flusso di sangue all'emisfero sinistro ma se la tensione si spostava verso il tono usato ad accelerare era il flusso sul lato destro la scoperta potrebbe spiegare spiegano gli addetti al lavoro aiutare i neurologi a comprendere i problemi che affliggono i pazienti che hanno subito lesioni cerebrali è riduttivo fare un automatismo fra la funzione e il fatto che l'area in questione diventi rossa sottolinea il professor Umberto Dinelli docente universitario di psichiatria ad Udine il cervello è una struttura estremamente complessa che ha aree varianti in pratica cosa è che hanno scoperto questi scienziati niente hanno scoperto che quando le persone subiscono delle emozioni cioè vivono delle emozioni alcune aree del cervello si attivano però potremmo dire lo avremmo saputo anche noi che questo avviene senza bisogno dei scienziati e delle macchine particolari sì è vero ma loro stanno cercando di individuare i punti esatti del cervello dove questo avviene ma perché questo avvenga e il significato di questo che avviene cioè le trasformazioni che produrrà questi scienziati non ve lo possono dire questo ve lo può dire soltanto la stragoneria per cui esiste un confine fra la scienza e quello che è la scienza sociale cioè la scienza della vita quotidiana ed esiste un confine fra ciò che è sperimentale e ciò che produce le passioni degli uomini non è che le passioni degli uomini non abbiano una sede o non abbiano dei effetti dei sintomi fisiologici ma questo noi lo sappiamo gli scienziati poi stabiliranno quali che sono questi sintomi fisiologici però a noi ci interessa come far nascere le emozioni come far nascere le passioni e la direzione delle trasformazioni soggettive che queste prendono è questo che ci interessa a noi proviamo da un'occhiatina al discorso parte il fatto che anche già in questo articolo si dice che quando ci emozioniamo c'è un flusso di sangue che arriva nel cervello per cui lasciamo un po' in sospeso questo discorso ma proviamo a prendersi un dizionario di psicologia e guardiamoci alcune cosette sulle emozioni no? innanzitutto che cos'è un'emozione? dice il dizionario reazione affettiva intensa con insorgenza acuta e di breve durata determinata da uno stimolo ambientale la sua comparsa provoca una modificazione a livello somatico vegetativo e psichico le reazioni fisiologiche a una situazione emozionante investono le funzioni vegetative come la circolazione del sangue la respirazione la digestione e la secrezione le funzioni motorie tramite un'ipertensione muscolare e le funzioni sensorie con svariati disturbi alla vista e all'udito le reazioni viscerali si manifestano con una perdita momentanea del controllo neurovegetativo con conseguenze incapacità temporanea di astrazione del contesto emozionale le reazioni espressive riguardano la mimica facciale gli atteggiamenti del corpo le abituali forme di comunicazione le reazioni psicologiche si manifestano come riduzione del controllo di sé difficoltà ad articolare logicamentazioni e riflessioni diminuzione della capacità di metodo e di critica infatti quando diciamo che i cristiani non sono in grado nemmeno di capire cosa c'è scritto nei loro testi sacri è perché che sono talmente emozionati di leggere di questo grande dio che hanno che diminuiscono quelle che sono le barriere critiche su quello che leggono e non riescono a capire niente di quello che leggono nei loro stessi testi sacri poi vengono ad ascoltare questa trasmissione che gli parliamo dei loro testi sacri e cascano giù come bacchettoni perché boh io quelle robe e quando mai le ho lette ma se le ho lette sempre letti i testi sacri perché psichicamente hanno un abbattimento della capacità critica questo comunque è la definizione generica delle emozioni andiamo un attimino a leggere qualcosa sulla natura e struttura dell'emozione circa la natura delle emozioni due sono le teorie che si contrappongono quella innatistica di Darwin secondo cui le manifestazioni emotive sono residui di risposta un tempo funzionale del processo evolutivo ad esempio il riso beffardo sarebbe il residuo del ghigno rabbioso è quella antinnatistica che si basa sulla constatazione che molte emozioni hanno un significato diverso da cultura a cultura attenzione se c'è contrasto interpretativo sulla natura innata o acquisita dell'emozione ce n'è meno sulla sua struttura che prevede tre fasi le tre fasi delle emozioni percezione commento ammortizzamento prima fase percezione corrisponde alla percezione di una situazione o alla sua evocazione che facciamo dentro di noi che genera una destabilizzazione a tutti i livelli di organizzazione psichica emotiva dove è impossibile stabilire un rapporto di proporzionalità fra stimolo e risposta cioè significa è impossibile stabilire un rapporto di proporzionalità fra stimolo e risposta è più o meno come quello che in macchina supera un altro e gli dice maiale cioè questa è una scena che è un po' avvenuta in montagna no? la ragazza una ragazza in macchina incrocia un'altra macchina abbassa il finestrino e gli dice maiale e stai lo tira giù immediatamente il finestrino e ha una reazione e gli dice troia dopo cinque minuti c'è l'autobulanza che va a raccogliere quell'idiota che è andato a sbattere contro un maiale dopo la curva cioè praticamente quello è successo che questa ragazza ha mandato uno stimolo a questo e questo ha avuto un'emozione ma la sua emozione era estremamente sproporzionata tra stimolo e risposta e la sua risposta sproporzionata l'ha mandato a sbattere contro il maiale dietro la curva questa fase può essere istantanea o differita in questo secondo caso la reazione è più forte e dura più a lungo in ogni caso non c'è percezione che non sia accompagnata da tonalità emotiva la seconda fase è caratterizzata da uno stato di tensione connotato da privazione degli abituali schemi di organizzazioni a cui il soggetto solitamente ricorre e potenzialità per una nuova attuazione nel campo di possibilità quanto più ampio è lo scarto fra privazione e potenzialità tanto più duraturi e destrutturanti finiscono con l'essere gli effetti delle emozioni rispondiamo un attimo quanto più ampio è lo scarto fra privazione e potenzialità tanto più duraturi e destrutturanti finiscono con l'essere gli effetti dell'emozione destrutturanti abbiamo detto rispetto alla struttura psicofisica e percettiva dell'individuo la terza fase è caratterizzata dall'entrata in gioco dei meccanismi omeostatici che ristrutturano schemi di risposte organizzate producendo distensione che non è un ritorno allo stato precedente la tensione ma un guadagno organizzativo ottenuto dalla potenzialità liberata dalla destrutturazione allora tanto per riassumere un po' la natura la struttura dell'emozione diciamo così prima di tutto noi abbiamo uno stato psicofisico questo stato psicofisico entra in contatto con un fenomeno esterno che ci destruttura cioè ci mette in moto tutta una serie di movimenti psicofisici ci mette in tensione rispetto al fenomeno che è arrivato e questa tensione ci distruttura cioè ci rompe l'equilibrio precedente quando noi andiamo in distensione riprendiamo l'equilibrio non siamo più quelli che eravamo prima ma siamo dei soggetti modificati per cui l'emozione ha una capacità di rompere quello che è lo schema psicofisico dell'individuo di costringirlo a delle azioni magari anche da fuori di testa perché alcune emozioni mandano fuori di testa quando poi si riprende il controllo esiste una destrutturazione del soggetto seguono una quindicina di scuole che interpretano che interpretano le emozioni noi saltiamo tutte quante e andiamo emozioni e tensioni il binomio motivazione ed emozioni è alla base dell'intero campo affettivo e lo si può descrivere in termini di tensione dove si manifesta il rapporto ambiguo fra interiorità ed esteriorità che è anteriore alla forma conflittuale che lo esprime tale tensione si manifesta in ogni essere come tendenza all'apertura e alla chiusura senza che sia possibile raggiungere l'uno o l'altra se non a rischio di una inevitabile destrutturazione il processo di oggettivazione della tensione si realizza secondo tre modelli 1. riduzione della tensione tutte le azioni sono interpretabili secondo il modello omeostatico come riduttori di tensione in vista all'autoconservazione naturalmente questa riduzione non deve arrivare all'eliminazione della tensione perché altrimenti si avrebbe la stasi del sistema e la cessazione di ogni interazione fra individuo e il mondo 2. produzione di tensione è constatabile in ogni azione che oltrepassa la visualizzazione logica del sistema in cui l'azione si esprime questo altrove rispetto alla visione logica è sempre quello che Sigmund Freud chiama ad esempio S dove l'esistenza diventa una pura constatazione non giustificata e non giustificabile logicamente perché è prima di potersi esprimere in conformità a un disegno nell'intervallo fra l'esistere immotivato e la ricerca di motivazioni si danno le condizioni per la produzione di tensione 3. deduzione della tensione dalle relazioni che la esprimono le relazioni danno forma alla tensione e questa forma permette di rappresentare l'esistenza tensionale la tensione che dal punto di vista esistenziale è privazione dal punto di vista inesistenziale è potenzialità da questa assimetria si comprende perché la tensione superi qualsiasi rappresentazione che tenti di raffigurarla e possa solo essere seguita nel suo divenire e sentita per dirla come Kant come esigenza incondizionata per cui le emozioni non sono altro che tensioni che si sviluppano dentro di noi come risposte a stimoli esterni ma noi possiamo anche mettere in atto delle tensioni immaginando dei stimoli esterni cioè possiamo mettere in atto il nostro apparato psichico immaginando che ci sia una situazione normalmente chi va fuori di testa non fa altro che usare la propria immaginazione la proietta sui simboli e sui fenomeni esterni e immagina i fenomeni esterni come usa la sua fantasia e da qui arrivano delle emozioni che poi possono scaturire anche in caratteri patologici in caratteri di malattia psichica però questo è un altro discorso l'importante è che noi sappiamo che le emozioni non sono altro che stati psichici di coinvolgimento soggettivo rispetto dei fenomeni esterni che ci giungono che hanno la capacità di modificare la struttura psicofisica dell'individuo questo è l'importante che noi sappiamo che poi queste emozioni siano emozioni di paura di ansia di gelosia di ira di riso di pianto di piacere di godimento questo è rilevante dal punto di vista pratico cioè dal punto di vista dell'analisi psichica emozionale è importante poi come viviamo cioè è importante che queste emozioni si traducono nella vita che le percepiamo che le viviamo che riusciamo ad immergerci nelle emozioni questo poi diventa un altro tipo di discorso diverso però le emozioni sono queste cose e le trattiamo in questo modo perché questa è la psicologia la filosofia le scuole di pensiero che hanno trattato le emozioni da circa 200 anni poi ne parlava già Aristotele insomma a modo suo per cui questo è ciò che noi vogliamo significare attraverso le emozioni che poi le emozioni siano sensazioni cioè siano la nostra percezione di oggetti esterni che percepiamo attraverso i sensi traduciamo in immagini traduciamo in sussulti emotivi cioè sussulti dentro di noi questo poi è un altro discorso chiaramente questo è e questo poi va coltivato in maniera diversa questo è tutto per quanto riguarda la spiegazione su cosa intendiamo per emozioni non sempre è possibile essere chiaro come si vorrebbe e allora quello era del 2003 articolo e invece dalla Repubblica del 3 settembre 2005 ricerca del San Raffaele di Milano per le emozioni cervello più attivo il cervello funziona meglio quando si tratta di ragionare su problemi che toccano le emozioni e le esperienze ogni esperienza che noi abbiamo è una emozione e si traduce dentro di noi in maniera potentissima faccio un esempio se qualcuno ha tentato di smettere di fumare sa benissimo le fatiche che si fanno ma c'è un aspetto molto particolare nel smettere di fumare anche se voi passano tre giorni tre mesi vi disintossicate dalla nicotina vi resta sempre una cosetta molto particolare prendete un caffè e vi viene in voglia di prendere una sigaretta finite di pranzare vi viene in voglia di prendere una sigaretta decidete di rilassarvi vi viene in voglia di prendere una sigaretta arrivate al lavoro vi viene in voglia di prendere una sigaretta cioè pratica quello che è l'effetto psichico l'effetto emotivo delle sigarette si è agganciato a quelle che erano le vostre abitudini quotidiane cioè il fumatore non è che fuma le sigarette semplicemente perché deve fumare le sigarette come se mangiasse delle arance ma fuma delle sigarette in base a degli stati dei suoi vissuti durante la giornata in quei vissuti si aggancia la simbiosi psichica emotiva sigaretta e attività e levare via cioè disintossicare l'individuo da questa simbiosi tipo l'abitudine di mangiare prendere il caffè fumarsi una sigaretta bene levar via la sigaretta dopo il caffè diventa quasi più difficile che non levar via la dipendenza dalla nicotina e spesso chi tenta di smettere di fumare non riprende a fumare per la dipendenza dalla nicotina ma riprende a fumare perché gli manca la situazione psichica del fumare la sigaretta dopo il caffè oppure nelle situazioni in cui la fumava perché la sigaretta è entrata all'interno della struttura emotiva dell'individuo che si esprime fumando la sigaretta in certe situazioni e in certe abitudini quotidiane andiamo avanti con questo articoletto il cervello funziona meglio quando si tratta di ragionare su problemi che toccano le emozioni e le esperienze funziona meno bene quando si cimentano ragionamenti astratti matematici o logici nel primo caso oltre all'emisfero sinistro dominante per il calcolo il linguaggio e il ragionamento si attiva anche quello destro specializzato invece nella sfera delle emozioni e della socialità lo ha reso noto uno studio all'università di San Raffaele di Milano in collaborazione con l'università di Parma e Tucson in Arizona i ricercatori hanno analizzato 12 pazienti sottoponendo lo scanner della risonanza magnetica funzionale l'obiettivo era quello di capire quali ali del cervello lavorassero di più siamo in pratica l'articoletto ci dice che quando noi lavoriamo sulle emozioni cioè quando noi il nostro ragionamento nel nostro ragionamento vengono coinvolti anche gli stati emotivi gli stati psichici profondi e non solo la razionalità non solo la ragione il nostro cervello lavora molto di più e lavora molto meglio perché lavoriamo anche con una parte del cervello profondo pertanto questo dimostra ancora di più quello che è un principio fondamentale della stragonaria cioè se io devo affrontare i problemi della vita e devo affrontare i problemi della vita con passione devo affrontarlo con intensità devo affrontarlo con un impegno coinvolgente cioè solo in quel modo sono in grado di affrontare i problemi della vita in maniera dinamica in maniera attiva cioè è inutile che io affronti i problemi della vita in maniera razionale c'è una delle scuole di interpretazione delle emozioni che dice che la paura c'è perché io scappo cioè io non ho paura e allora scappo ma è proprio perché scappo che io ho paura in pratica dice questa scuola guarda che ragionare sulle emozioni che ci sta dietro la nostra azione ci porta a descrivere la nostra azione cercando di capire perché questa azione è avvenuta ma io ragiono a posteriori cioè intanto sono scappato prima di tutto dopo di che cerco di giustificare perché sono scappato per cui spesso io ho tutta una serie di azioni che devo dopo interpretare ma queste azioni sono il frutto delle mie emozioni cioè sono il frutto del legamento che hanno le mie emozioni col mondo che mi sta attorno infatti leggiamoci qualche cosa la repubblica del 18 febbraio 2005 ecco la sede del sesto senso la scoperta di studiosi americani pubblicata su science il sesto senso esiste e risiede nel cervello in una regione tra i due emisferi la scoperta riportata dalla rivista science e dei scienziati di Washington University e San Luis e indica come sede del sesto senso la corteccia cingolata anteriore qui risiede un sistema di allarme che ci avverte quando qualcosa non va o quando qualche nostra azione potrebbe compromettere la nostra incolumità ha spiegato Joshua Brown si tratta di un circuito che ci dà informazioni per aggiustare la rotta dei nostri comportamenti e metterci al riparo dei pericoli la scoperta può averli svolti in ambito psichiatrico eccetera in pratica cos'è? è un meccanismo di passaggio fra quella che è la nostra capacità di intuizione e quella che è la nostra azione la nostra visione quotidiana che ne dà la ragione cosa succede? succede che la ragione può descrivere una certa quantità del mondo una certa forma del mondo ma la mia intuizione le mie emozioni la mia parte profonda del cervello interagisce con tutte le situazioni del mondo in pratica se la mia ragione riesce soltanto a muoversi su problemi descritti o descrivibili le mie emozioni la mia parte profonda si muove interagendo con tutti i soggetti del mondo e riesce proprio attraverso questa interazione a capire quando delle cose vanno o quando delle cose non vanno pertanto io riesco ad intuire a capire delle condizioni del mondo delle condizioni della vita proprio attraverso il mio cosiddetto sesto senso cioè la mia capacità di interagire col mondo e questa capacità di interagire col mondo vedremo anche in altre parti è una delle capacità che è fondamentale in stragonaria perché spesso ci si chiede come si fa a intuire cose che nella razionalità e nella ragione non hanno nessun ambito e spesso quando si tratta di stragoni c'è l'azione che precede le spiegazioni e spesso si agisce prima che il problema si presenta la soluzione precede il problema è un'arte della stragonaria questa andiamo ancora più avanti vediamo cosa hanno scoperto USA scoperte le aree del cervello che sono vittime della pubblicità e questo va bene perché il cervello deve anche sapersi difendere da quelli che sono gli agguati del mondo in cui viviamo c'è troppa gente troppe situazioni sia religiose politiche commerciali cercano di trasformare le persone in oggetti da arraffare c'è da appropriarsi delle persone per fargli fare quello che si vuole il politico per farlo votare al seggio e allo stipendio che vuole e la religione per avere importanza sociale nella struttura commerciale per vendere il prodotto quel prodotto magari fanno vedere l'automobile una donna con bel seno normalmente io guardo il seno e poco l'automobile anche perché i soldi per comprarla non li ho però il problema è che le persone fin da struttura fin quando vengono educate fin da piccolissime hanno una capacità di apprendere le immagini del mondo di fare le proprie e di aderire a quello che sono le immagini del mondo specialmente nel bambino piccolissimo abbiamo una scarsa capacità critica e abbiamo molta forza di adattamento abbiamo la capacità del bambino di scegliere fra più fenomeni ma non ha gli elementi per discriminare fra i fenomeni e esistono delle aree del cervello in cui il bambino prende tutto quello che gli arriva e poi se lo elabora ma nel prendere tutto quello che gli arriva queste aree del cervello poi restano anche da adulte la pubblicità di certi articoli agisce su due aree particolari del cervello il mesencefalo e il corpo striato ventrale che sono anche responsabili nella percezione e nel piacere e della gratificazione la scoperta di uno studio guidato da John Ho Doherty del dipartimento di psicologia e scienze e sociali dell'università tecnologica della California Caltech e pubblicato su Neuron le scelte che facciamo le scelte che facciamo stimolati dagli spot per una marca piuttosto che per un'altra dipendono dalle stesse aree del cervello che sono implicate nelle tossicodipendenze e in malattie psichiatriche come la depressione la base del funzionamento della pubblicità risiede nella prerogativa del cervello di associare uno stimolo a un prodotto le aree neuronali che entrano in gioco quando si stabilisce questa associazione sono proprio i centri del piacere e della gratificazione mesencefalo e streato ventrale utilizzando una tecnica non invasiva come la risonanza magnetica gli esperti hanno osservato queste regioni nel cervello di un gruppo di volontari cui erano stati offerti succhi di frutta di 4 diversi gusti chieste loro le rispettive preferenze per i gusti neurologi hanno creato degli stimoli visivi associandola uno ad ogni gusto poi hanno controllato l'attività cerebrale in risposta a ciascun stimolo è emerso che mesencefalo e streato si accendevano diversamente in base alle preferenze individuali dichiarate da ciascun volontario all'inizio del test in sostanza l'attività neurale in queste regioni ricalca fedelmente preferenze scelte degli individui per uno o l'altro gusto ricordatevi che questo va bene per una pubblicità televisiva di un succo di frutta va bene per una struttura religiosa va bene per un partito politico va bene quando decidono di tagliarvi la testa magari qualcuno dice beh sai anche un regime che taglia le testa e tutto sommato non è male potrebbe tagliare le testa degli altri il problema è che quando si tagliano le testa poi ci si prende un po' la mano e succede il catatrassi per cui rifletteteci attentamente prima di scegliere e c'è la possibilità anche di rimuovere una situazione come questa la possibilità di rimuoverla è quella di scegliere in base a se stessi si è vero qualche volta si diceva beh dai prendo quel prodotto anziché un altro prendo questo anziché un altro l'importante è scegliere sempre poi se qualche nostra area del cervello ne è presa beh forse è meglio la pubblicità che una depressione vabbè comunque tenete presente che esiste anche questo meccanismo e non venitemi a dire che voi avete delle idee vostre le idee sono sempre indotte dal sistema in cui viviamo il senso degli humor che fatica per il cervello in realtà il senso dell'umorismo che uno d'altro è molto apprezzato dalle donne è una faticaccia enorme perché la vita è una cosa seria non è una cosa superficiale ogni istante della nostra esistenza è una questione di vita o di morte noi non sapremo mai in che momento moriremo a meno che non decidiate di pagare qualche killer che vi ammazzi e ogni secondo della nostra esistenza lo dobbiamo sfruttare fino in fondo in maniera economicamente vantaggiosa per portare la morte al corpo fisico alla nascita del corpo luminoso non ci possiamo permettere di perdere un istante dopodiché chiaramente non possiamo sempre vivere con intensità assoluta e allora ci dedichiamo un po' all'humor ma l'humor implica una fatica enorme per il nostro cervello e una destrutturazione non indifferente permette anche di rilassare effettivamente data l'energia che esprime senso dell'humor una questione di cervello differenti aree cerebrali vengono impegnate per capire una battuta o un commento sarcastico un lavoro complesso che permette di andare al di là del significato letterale delle parole un lavoro d'equip di diverse parti del cervello lo hanno scoperto i ricercatori di Ramdam Medical Center di Haifa in Israele fotografando il cervello di 58 persone dalla Repubblica del 24 maggio 2005 e quasi quasi per oggi sarebbe anche da chiudere con un altro discorsetto penso che farò anche tutte le due puntate prossime cioè giovedì prossimo io ci sono non c'è Francesco per cui praticamente nelle due puntate nelle due trasmissioni di giovedì prossimo vi farò tutto il resto della cronaca che manca ma tanto per terminare oggi da Repubblica del 29 dicembre 2005 e anche questa è una notizia che abbiamo già dato il cervello cresce anche in età adulta bene fino all'altro ieri si pensava che arrivati ad una certa età il cervello cessasse di crescere e iniziasse un processo di distruzione della struttura neuronale cioè in pratica il cervello che si rattrappisse chiudesse su se stesso in realtà non è così è vero che avviene dopo una certa età che il cervello si chiude su se stesso ma avviene che il cervello si chiude su se stesso a una velocità maggiore o minore a seconda di come noi affrontiamo la vita a seconda di come noi affrontiamo con le nostre emozioni il mondo in cui viviamo e la Repubblica 29-12-2005 dice il cervello cresce anche in età adulta i ricercatori hanno filmato la formazione di neuroni speranze contro le malattie degenerative questo vabbè lasciamo perdere i discorsi sulla medicina che i discorsi sulla medicina sono sia in positivo che in negativo cioè tutte queste ricerche servono sì per controllare magari se è possibile vivere un po' meglio costruire dei medicinali migliori ma servono anche per costruire dei medicinali destrutturanti cioè in pratica se io capisco che quel settore del cervello ti dà il coraggio posso tentare di inventare la pillola che intervenendo su quel settore del cervello ti fa diventare un codardo per cui queste ricerche hanno spesso anche un carattere militare non è semplicemente in positivo è da vedere cioè noi le trattiamo perché ci dimostrano la realtà fattiva di quello che è il discorso della stragoneria ma voi tutte queste ricerche dal punto di vista medico dal punto di vista psichiatrico dal punto di vista sociale ricordatevi che hanno anche l'aspetto negativo cioè l'aspetto proprio di distruzione dell'uomo a seconda di come viene usata poi noi sappiamo come apprendersi di stragoni che ci sono alcune cose che non si possono toccare cioè sappiamo che l'equilibrio fisiologico l'equilibrio di un corpo l'equilibrio di un cervello è difficile da toccare perché come un'area cessa di funzionare in determinato modo all'interno di noi stessi altre aree sia fisiche sia mentali ne prendono il posto cioè non è così facile destabilizzare un individuo il cervello il cervello cresce anche in età adulta anche i neuroni crescono e si moltiplicano la credenza comune secondo cui il cervello è destinato inesorabilmente a spopolarsi di cellule con il progredire dell'età è stata smentita da un'eccezionale osservazione un gruppo di ricercatori del Massachusetts Institute of Technology di Boston hanno filmato la crescita dei neuroni nel cervello di un topo adulto finendo di abbattere finendo di abbattere uno dei falsi miti delle neuroscienze sapere che i neuroni sono in grado di crescere anche nel cervello degli adulti ci spinge oltre vogliamo capire quali fattori stimolano questa crescita e come fare a riprodurla nelle persone malate nelle persone malate non lo so ma come si fa a stimolarla ve lo sto dicendo da 6 trasmissioni spiega il neurobiologo Elie Nedivi uno dei membri dell'equip di ricerca i risultati dell'esperimento con le relative immagini sono stati pubblicati dalla rivista PLOS Public Library of Science Biology offrono la speranza di curare le malattie degenerative del sistema nervoso e le esioni del midollo spinale eccetera eccetera e per il momento mi fermo qui fotografato anche il cervello che ricorda e così via poi andremo avanti giovedì prossimo e penso che giovedì prossimo terminerò quello che è l'argomento sulle ricerche scientifiche a proposito della trasformazione dell'uomo e della sua struttura psichica bene 049 600 600 049 600 838 io però sto già per mettersi la pubblicità e chiudo la trasmissione pronuncia velocissimo Paolo ciao ti faccio i complimenti per quello che hai detto sai perché sto leggendo un po' di Schopenhauer dalla antologia filosofica di Emanuele Severino è veramente era un pezzo non la prendevo in mano veramente ci sei dentro completamente lui parla di volontà si la volontà di potenza le altre sono pippe mentali ok come hai detto tu dalla volontà va bene grazie San Paolo e quindi il discorso rimane aperto a tutti penso non solo non solo ai grandi maestri vero certamente grazie ciao 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 bene io qui la trasmissione mando immediatamente pronto velocissimo a te i neuroni si sono fermati quando sei nato si amico mio grazie benissimo come avete sentito grazie a questo amico finalmente chiudiamo la trasmissione vi do appuntamento per giovedì prossimo e niente continuiamo il discorso va bene mi sono fermati i neuroni che fortuna che ho avuto ciao